Ciao a tutti, sono Manuela Leggeri, sono un ex atleta che oggi ha deciso di indossare nuove vesti, quali quelli dell'allenatore. Alleno nella Palavolo Rivalta, che è una piccola società nel Mantovano e vi aspetto mercoledì 30 per affrontare e condividere con voi alcune tematiche che riguardano questo ruolo. Ciao e a mercoledì! Grazie per la visione!